Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di Luis Suárez, man of the match, giocatore del Barcellona che ha guadagnato questa sua versione, man of the match, grazie alla doppietta nel 2-1 del Barcellona in casa del Manchester City, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, come vedete 7 partite, 12 gol, abbastanza assist, molti assist, un giocatore pazzesco, è inutile che facciamo tanti giri di parole, un giocatore pazzesco, se non è il giocatore perfetto di FIFA, poco ci manca. Allora, qual è la sua caratteristica più importante, la sua caratteristica principale? Sicuramente il tiro, veramente ragazzi fa dei tiri fantastici, in questa settimana diciamo ho provato sia Müller che lui, quindi i due giocatori che finora mi sono piaciuti di più per tiri, ma lui, non so, ha qualcosa in più, qualcosa di unico, veramente riesce a fare qualsiasi tiro sia da dentro l'aria che da fuori dall'aria in una maniera perfetta, in una maniera stilisticamente bellissima da vedere e poi è molto 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 efficace, ecco, quindi riesce a fare sia i tiri pelli che i tiri brutti diciamo, ma comunque efficaci, 94 di finalizzazione, e in questo caso si sente veramente tutto, il 94 di finalizzazione, lui davanti alla porta sbaglia poco e niente, sottolineo poco e niente, perché poi se mi venite a dire che in qualche clip ho sbagliato, vi ricordo che c'è sempre o il portiere che para, o il margine di errore, oppure il culo, o qualsiasi altra cosa, per favore, non facciamo sempre polemica. Comunque, tornando al tiro, ha un ottimo 84 di longshot, ottisissimo, 86 di potenza tiro, veramente, una potenza tiro fantastica, anche più di 86, 86 di tiri al volo, quindi un giocatore veramente meraviglioso, soprattutto per quanto riguarda i tiri, che sono poi la cosa principale, per un attaccante ci mancherebbe altro. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il suo posizionamento e il controllo palla, non sono due cose collegate, però vi spiego perché. Si fa trovare sempre in posizione giusta, l'ho provato soprattutto come punta unica, non un 433, con il COC, ma anche l'ho provato come falso nuova, addirittura in un attacco a due. Decisamente meglio nei primi due casi, soprattutto come punta unica, e quindi lui è sempre lì in posizione, sempre pronto a ricevere il passaggio filtrante, il passaggio del COC, il passaggio delle ale. E poi appunto ha un 91 di controllo palla, quindi è difficile che vi sbagli lo stop, anche se gli arrivano dei passaggi difficili, perché lui è bravo a mettere a terra la palla e a cominciare a correre. Considerate che la velocità non è fantastica, non è la velocità di Neymar, non è la velocità di Cristiano Ronaldo, di Messi, però è un'ottima velocità, 89 di accelerazione che si sente tutto, un 79 di velocità scatto che in effetti è il valore più bassino, ed è vero, magari i primi due o tre passetti sono un po' più così, ma appena prende velocità non lo fermano, non lo fermano. Considerate che ha un 77 di forza fisica che è un valore buonissimo, riesce a resistere agli attacchi dei difensori e avversari abbastanza bene, quindi ottimi, ottimi valori anche di velocità. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo anche è il passaggio, infatti ho provato la falso 9, faceva dei passaggi bellissimi, delle aperture per le ale, veramente belle da vedere anche, ottimi anche cross, quindi ha dei valori ottimi anche come passaggio, adesso sto azzardando, potrebbe anche fare il COC, però teniamocelo così per com'è, infatti ha un 83 di passaggi corti e un 64 di passaggi lunghi, che appunto è poco veritiero, ma abbiamo visto come molti valori delle statistiche in game sono poco veritieri per molti giocatori. 77 di cross, è un ottimo 85 di visione che sicuramente è quello che più lo caratterizza. Ultimo pro, perché non ci sono contro per questo giocatore, non ce ne sono assolutamente, ultimo pro, il dribbling. 92 di dribbling, 87 di agilità, 4 stelle, mosse abilità. Una macchina da guerra, è un carro armato, ed è bravissimo, bravissimo a smarcarsi negli spazi stretti, bravissimo. Quel dribbling che sembra lento, ma che è letale, letale perché gli apre gli spazi per correre e per andare verso la porta e per andare a finalizzare. Quindi, cosa dire di più di Suarez, Man of the Match? Un giocatore fantastico, unico, unico veramente perché ce ne sono pochi veramente come lui nel gioco. Ecco, ora che ci ripenso, probabilmente l'unico contro che ho potuto notare è sicuramente, c'è un minimo, ecco, non sicuramente. Un minimo è il piede debole, anche se a 4 stelle e piede debole a volte di sinistro mi sbagliava qualche cosina, qualche apertura o comunque qualche tiro di sinistro me lo sbagliava. Però non è un contro così decisivo, anche perché è anche uno minimamente bravo, uno che è minimamente bravo riesce a mettere i giocatori in modo da tirare sul destro. Ovviamente il contro principale, poi, è il prezzo troppo alto al momento in cui sto registrando la review e 14 milioni, 15 milioni, troppo alto. Secondo me è un grandissimo giocatore, ma non è ai livelli di Messi e Ronaldo Toti o Ronaldo Sif, Messi Tif, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto mi riguarda, quello è l'unico contro. Andiamo quindi velocemente a riepilogare. Velocità, finalizzazione, dribbling, 4 stelle skill, posizionamento, tutti i tiri e i passaggi sono dei pro, dei top. Il flop unico è il costo, voto finale, 10.